da oggi c'è una novità la Steffi col suo cagnolino va e porta l'allegria città ma sei fuori io non sono così ascolta la testa roba Capsula, Capsula, Capsula 1, 10, 1 dollari, 10, 100 euro, 100 mille, un milione, quanti soldi? Steffi non rompere, uffa! Sei proprio suonata. Stevi, 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 stevi. La chitarra. Si tratta dell'unico esemplare in cer...